Ecco, Toti, dunque, volevo ricordarti che la regione Liguria è la più anziana d'Europa. Io che ho 61 anni, per esempio, nel pesto non ci metto i pinoli, ci trito il prostamol. Col mortaio, eh? Faccio col mortaio. Però, capisci, Toti, quando si dice che i settantenni vanno tutelati. Toti, tu non puoi fare un tweet così, Toti. No, non puoi fare così. I pensionati non sono indispensabili allo sforzo produttivo del paese. Ti ricordo, Toti, che stanno richiamando tutti i medici in pensione. I medici in pensione richiamati in corsia non si trovano i giovani. Hai capito, Toti? Non si trovano i giovani. Sono gli improduttivi che salvano la pelle ai produttivi. Ma poi, Toti, cosa ti giustifichi dando la colpa al tuo social media manager? Il mio tweet che sta girando è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio per un errore dei social media manager. In effetti è vero, probabilmente hanno estrapolato una cazzata da una stronzata molto più ampia. Com'è possibile che tutte le regioni in Italia, io lo dico come genovese, abbiano presidenti del posto, e invece noi liguri ne abbiamo uno che è di Viareggio. Per carità, Viareggio è un posto meraviglioso. Però Toti dice, gente, niente, bene! E no, non sembra ligure nemmeno se lo ricopri di basilico. Cioè, se tu senti Zaia, e magari ti sembra di sentire l'odore della gondoliera di Chioggia, senti Fontana che parla come un industriale dell'abrianza. Emiliano sembra, appena uscito dalla masseria, senti con sequestolio. Ma si sente col sapore di sale e la fresca, ti pizzica la gola. E invece Toti, da noi, Benin, sembra un rappresentante di Caciucco che ha forato in autostrada e si è perso. Ma c'è mica qualcuno che mi cambia la gomma? Voi direte, ma tu te la prendi così tanto con Toti solo per un tweet contro gli anziani improduttivi? No, no, eh, magari, Benin fosse solo il tweet, purtroppo c'è di peggio. Fatemi vedere. Coronavirus, trovati 500 posti letto nelle RSA Liguri. Toti, ogni strumento a disposizione per fronteggiare il virus lo stiamo mettendo in campo. Secolo XIX, la regione ha indicato le case di riposo dove ospitare 200 malati non gravi. La CGL, scelta scellerata. Cioè, fammi capire, Toti. Dunque, in Liguria pensate di mettere i malati di Covid nelle RSA? Ma allora è vero. Cioè, proprio ti stanno sulle balle gli anziani. La prima ondata, Toti, ha fatto una strage proprio nelle RSA. Cocane, coronavirus, la colpevole strage nelle RSA. Toglimi una curiosità, Toti. Sei di Viareggio o di Sparta? Toti, sia di Viareggio o di Sparta. Toti, sia di Piareggio o di Sparta. Grazie.